ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi voglio farvi un video bonus domenicale dove vi mostrerò un utilizzo sensato dell'applicazione tap translator application applicazioni che sono dopo le prove che ho fatto su altri giochi tentato di rendere insomma perché non mi trovavo c'erano magari troppi sfondi un po così in realtà mi sono reso conto che con final fantasy 14 gioco su cui siamo oggi funziona davvero egregiamente potrebbe essere un surplus un surplus come lo volete definire per molti di voi perché perché final fantasy 14 è uno degli giochi online mmo rpg più belli dicono e tra i più popolati secondo forse solo a world of warcraft non è una coreanata come può essere un black desert online o una change insomma dove si punta tutto comunque sull'equip sul potenziamento sulla ripetizione di crafting forse è nato ma uno dei difetti diciamo per il pubblico italiano per questo gioco è l'inglese perché l'inglese non è propriamente semplicissimo adesso proviamo a vedere la comodità del di questo gioco è che la maggior parte dei dialoghi delle quest avvengono con dei tempi diciamo che decidiamo noi in pratica noi andiamo a parlare con un tizio e vedete che esce una descrizione lui è un nome che sembra generato a caso usa spesso delle diciamo delle terminologie o dei gerghi o delle abbreviazioni che non sono il massimo devo trovare una missione che abbia del testo in modo da potervi far vedere come funziona esattamente questo traduttore quello che si distingue molto questo gioco è il fatto che le descrizioni sono in un inglese comprensibilissimi dialoghi un po' meno insomma vedete noi accettiamo una quest ed esce questo discorso sweetnits is beautyos gobby and craft trademark e non si sa che cosa cioè voglio dire usano dei termini un po' particolari noi attiviamo con control shift il nostro generatore diciamo di testi e andiamo a selezionare l'area lasciando fuori perché abbiamo già visto cose strane che potrebbero essere interpretate male dal traduttore la selezione ed esce la traduzione psst socro sweetnits è un bellissimo gobby è un abile commerciante ok abbiamo scelto questa questa cosa con f3 facciamo sparire il coso vedete qua di nuovo va avanti col discorso premiamo f2 per andare a riselezionare la zona di prima sweetnits fa fare con gli uplanders ovviamente dovete far conto che tante volte i termini alcuni termini non li cambia giustamente altre volte invece li lascia quindi bisogna avere un minimo di elasticità mentale io lo sposto per fare un confronto con gli uplanders devo consegnare la lettera al gate of my van ma sweetnits ai brividi lui e sweetnits ovviamente vedete bb busy busy deal è un po complesso come termine non è proprio di tutti i giorni e shiver shivers shakers i brividi cioè lo imparate anche dopo giusto no vabbè andiamo avanti di nuovo f2 gli uplander uplander immagino voglio dire quelli che abitano di sopra perché adesso siamo nei ponti più bassi serie calgate of mal van per sweetnits ah io sono uno del piano di sopra capito la plunder consegna la lettera al trassista pga vedete che non lo ha neanche tentato di tradurre perfetto sì questa accettata va bene dobbiamo andare al piano di sopra poi vabbè adesso dovremmo prendere dovremmo prendere l'ascensore vedete quanta gente che c'è in giro a fine evening ok f2 buona serata a te volevo dire è infatti buona serata a lei signora addirittura signora madama sì signora benvenuti nel mercato più completo del grande regno di orzea dove ogni scaffale geme sotto il peso delle meraviglie portate da tutti e quattro gli angoli del mondo vede cioè non sono frasi semplici cioè posso capire come era un tempo world of warcraft dove era comprensibile però in questo caso lo lo fate finalmente insomma va bene capito l'unica cosa è è che quando si attiva il programma l'audio di gioco va via devo vedere un attimino però lo sto giocando in finestra senza bordi come vi dicevo esiste un utente ha consigliato borderless game insomma adesso ho fatto il video qualche giorno fa e dove forza i giochi ad andare in finestra senza bordi anche quelli che non ci vanno da soli quindi sarebbe da avviare combinato a questo in modo da poter tradurre tutti i giochi però ripeto non si adatta a tutti i giochi questo prega di sfogliare pre browse the stalls until your eyeballs age from ogling praticamente qua di age è un dolore in pratica il dolore agli occhi ogling the overbundance of unbelievable unbelievable bargains per la sovrabbondanza di incredibili bargains mi sfugge dove andare a vedere ma il tempo lo guadagno qua prega di sfogliare il bancario finché i tuoi occhi non ti faranno male per aver osservato la sovrabbondanza di incredibili occasioni ora per quanto mi piacerebbe approfondire la qualità impareggiabile della nostra merce devo occuparmi di un carico ma recentemente sono arrivato al porto probabilmente qua non ha capito che un carico è arrivato al porto ma va bene andiamo avanti hai un regalo da baderon qualunque cosa potesse ah il mio ottante per il navigatore devo aver lasciato il mio ottante se sarà uno strumento per il navigatore devo aver lasciato la wench insieme alla paga di una settimana parecchie campagne intossicati si vabbè a grandi linee si capisce c'è tutta un'altra cosa diciamo trade devo darglielo ok l'unica cosa per cui non si adatta sono le scene in cui magari ci sono delle cazzin con i sottotitoli in quel caso non potete tradurli perché gli sfondi sono mandano in confusione programma vabbè andiamo a vedete che adesso si è spostato no ok ha preso quella zona lì devo ricalibrarla scusatemi lo faccio subito è un po più lento giocarlo così però perlomeno si capisce sono molto grato di riaverlo questo strumento ne ricordo dei miei giorni da capitano di nave vedi inutile dire che la buona tua buona azione deve essere ripagate quale migliore ricompensa della saggezza di un maestro mercante molto interessante andiamo di nuovo se stai cercando un equipaggiamento per avventure semplici e robusto non devi guardare oltre le braccia est e ovest di orcas alle sì vabbè bene o male lo capite sì che in pratica non è esattamente così però va bene traduciamo anche questo per non dubitare ogni gil che investi in armi e armature sarà denaro ben speso dopo tutto l'avventura è una professione pericolosa per sua stessa natura allora inutile dire che okers okers alle vanta mancare le specializzate anche in ogni disciplina marziale immaginabile va bene sì le armi bianche insomma e in pochi passi ci sono bazar e farmacisti che forniranno tutte le due porzioni e necessità dei peribili interessante i nostri agenti attenti si procurano una gamma di merci francamente sconcertante durante i loro soggiorni su spiagge lontane quindi vale la pena familiarizzare con il tipo il prezzo delle merci offerte da ogni bancarella molto interessante tutto questo vabbè tale conoscenza ti servirà bene se la tua borsa è leggera o il tuo tempo è contato insomma non ha preso questa parte qua cioè ovviamente non esiste la perfezione qua vedete che poi deve essere un pochino più ma è un'istruzione verbale ma un'istruzione verbale di questo tipo ti gioverà solo tanto experience è sempre stato ha un nome vabbè l'esperienza è sempre stata l'insegnante più sicuro se non più gentile ti invito a esplorare i mercati da solo grazie va bene avete notato non è perfetto ma cambia veramente veramente tanto l'esperienza di gioco questa è un'applicazione che ovviamente vi aiuta fino a un certo punto perché quando poi dovete parlare vabbè ok avete la gilda italiana parlate in italiano ovviamente se però dovete scrivere qualcosa sulla chat globale parlando con altre persone il traduttore fa un po quello che può però adesso voglio provare a vedere che come se scusate come se la cava con la chat vediamo ma non credo perché c'hanno anche uno sfondo strano quindi non sono solo la flamina carezza delicatamente chi esce offre un momento si sono tutte le remote che stanno facendo gli altri no funziona funziona va bene sì poi in realtà dovete sempre fare attenzione a quello che che c'è come sfondo perché vedete io adesso vado a tradurre questo ma sono sicuro che qualche problema lo darà resistente alle intemperie va bene allora niente vorrei dirvi di più di questo titolo ma purtroppo non ne so niente perché sono davvero molto molto combattuto se cominciarlo o no io sono nella versione trial quindi se create un nuovo account lo potete giocare gratuitamente fino a un tot di livello per ogni classe però ci sono una serie di limitazioni come ad esempio non credo si possano mandare messaggi privati non si possono non ci si può unire alle gilde però insomma ci si può un pochino godere il gioco e il fatto che comunque ci sia così tanta roba da cliccare così tanta roba con cui interagire e non si capisce niente mi fa ben sperare sulla complessità e sulla profondità di questo gioco ovviamente adesso è tutto molto più semplice anche per capire la storia perché adesso stiamo parlando di quest quando poi incontreremo magari personaggi della storia che andremo a incontrare e con cui parlare che ci porteranno avanti per varie vicende sarà comodo avere questo tool fin nel momento in cui non ci sono delle cutscene le cutscene saranno da capire e tradurre a mano perché io non credo che dipende perché se uso il traduttore e il gioco è fermo sulla schermata il gioco faizza bene si riesce a tradurre anche un testo parlato al volo con un video ma se il gioco va avanti non fate in tempo perché ovviamente il gioco di deve comunque andare avanti mentre il traduttore deve elaborare è un gioco che offre molte cose anche il crafting mi hanno detto che c'è un minigioco ci sono giochi di carte insomma desidero anche ringraziare christian colli di ieri che sulla live di multipla.it ha approfondito tante mie domande ora attendo al vostro parere soprattutto se qualcuno di voi gioca a questo titolo e me lo consiglia me lo faccia sapere in questo video domenicale sorpresa alla prossima grazie e ciao ciao